In questo quadro noi che cosa proponiamo? Proponiamo la costruzione di un soggetto della sinistra antiliberista. No, antiliberista, il punto di vista, adesso non ho la citazione di Mazzei, tu cosa dicevi? Un soggetto della sinistra sovranista. Ecco, io invece sono per la sinistra antiliberista. Che ovviamente è anche antiliberista. No, no, capito, ma uno mette l'accento, no, no, vorrei che fosse chiaro, non ci stiamo a insultare, a prendere in giro o a scherzare. Io sto solo dicendo che se uno deve dire una parola, io dico sinistra antiliberista, non sinistra sovranista. Per me la sinistra antiliberista deve fare due cose. Primo, deve usare fino in fondo il residuo di sovranità nazionale degli stati per scardinare l'applicazione dei trattati, fino in fondo. La mia idea è la disobbedienza ai trattati, cioè non si applica. Tradotto in italiano, che cosa dovrebbe far Renzi domani mattina? Spendere 30 miliardi in deficit per fare un piano di riassetto idrogeologico del territorio che fa lavorare un milione di persone per una roba che serve. Per essere chiaro, cioè disobbede. Uno dice Buoni, 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 buoni. Buoni, buoni. Grazie a tutti.